Mamma mia che Inter, mamma mia che Inter, 4, papine a 0 al tanto odiato, Gasperini ti sta bene, Gasperini 4 a 0 e l'Inter stradomina, stradomina questa partita. Andiamo subito al dunque, non c'è tempo da perdere ragazzi, prima di iniziare con questo post partita vi chiedo il massimo supporto che chiaramente è l'iscrizione al canale, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici, ditemi cosa ne pensate, ci si era in campo col solito 3-5-2 targato Simone Inzaghi, titolarissimi in campo, anche Lautaro Martinez che veniva da un acciacco muscolare, titolare e ha giocato per 83 minuti, purtroppo l'unico che davvero è mancato al gol, per il resto un Inter spettacolare, somma di porta Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Ciannoglu, Mkhitaryan Di Marco, Turam e appunto Lautaro Martinez. Al quarto minuto, immediatamente arriva il primo gol dell'Inter, dopo uno squilla al secondo minuto, dove Di Marco aveva messo un cross per Darmian, da quinto a quinto, Darmian però era troppo in ritardo, non può arrivare mai, al quarto minuto, Darmian, una azione da Playstation ragazzi, un'azione da Playstation meravigliosa, Darmian per Mkhitaryan, Mkhitaryan per Pavard, in posizione avanzata, nuovamente per Mkhitaryan che imbuca per Turam sul filo del fuorigioco, Turam mette in mezzo, sfortunata, e la deviazione di Jim City che la mette nella sua porta e porta l'Inter sul 1-0, un'azione meravigliosa che non poteva che essere condita con questo gol, auto, gol, ma sempre gol dell'Inter, si tratta all'ottavo minuto, bomba di Ciannoglu da fuori, Aya su punizione dopo un tocco di Di Marco e para a carne secchi, tutto questo è il preludio di quello che accade poi al decimo, due minuti dopo, gol di Barella, dopo una rimessa la palla arriva a Pavard che sponda per Barella al limite dell'area di sinistro, una volè bellissima ragazzi, che gol ha fatto Barella, sul secondo palo carne secchi non può assolutamente nulla, un gol strepitoso di Nicolò Barella, che ci porta sul 2-0, quindicesimo parata di Sommer sul primo squillo, sulla prima risposta dell'Atalanta, tiro di Zappagosta, poi Reteghi clamorosamente si ritrova la palla davanti alla porta e spara alto, al ventiquattesimo scambio di Samarzic con Reteghi che poi tira di poco alto, e qui la risposta in questi dieci minuti dell'Atalanta, poi sempre e solo Inter, al ventisettesimo Turam in contropiede, di sinistro deviato il suo tiro sul palo, ma forse poteva essere in posizione irregolare, non lo sapremo mai. Al trentanomesimo Brescianini per Samarzic, tiro dal limite fuori, e finisce il primo tempo sul 2-0 per l'Inter, andiamo immediatamente alla dipresa, al quarantaseesimo Turam filtrante per Mkhitaryan che si ritrova a tu per tu col portiere, un tiro che però viene incrociato male, va a lato e non riesce, ancora una volta Turam e Mkhitaryan a trovare lo specchio della porta. Nemmeno un minuto dopo, quarantasettesimo, 3-0, rimessa laterale, ancora rimessa laterale di Bastoni, tanto Inzaghi ha voluto che Bastoni battesse questa rimessa laterale. arriva Jim City che riesce a spizzare di testa male, fa un assist involontario per Turam, Zappacosta in ritardo, non riesce a chiudere per paura di fare fallo e causare calcio di rigore, e lì, e lì, Turam fa il 3-0. Cinquantunesimo, cross di Di Marco per la Toro Martinez che la incrocia schiacciandola al volo di poco a lato, peccato davvero, solo Inter in campo in questo momento. Qua cinquantaquattresimo dopo 3 minuti, stop e tiro di barella dal limite, ancora palla a lato, ne potevamo fare ragazzi, 7, 8, 9, questa è stata una partita meravigliosa, solo Inter in campo, l'Atalanta non pervenuta e sono contento così, ti sta bene Gasperini per tutte le cose che dici sempre contro l'Inter, davvero ti sta bene. 4-0 che arriva al cinquanta, seiesimo, sempre Marcus, Turam, sempre dopo un calcio d'angolo, la palla arriva di nuovamente a Cialanoglu, sempre su quelle zone, mette un cross in mezzo, Turam, la spizza di testa in mezzo, Mkhitaryan, controsponde dall'altro lato, arriva nuovamente Turam, di nuovo e fa il 4-0. Sessantunesimo, Carross Augusto e Aslani rilevano bastoni Cialanoglu, sessantasesimo, gran chiusura di Acerbi sulla risposta dell'Atalanta, stavolta Samarzic scarta Augusto, poi però trova Acerbi sdraiato a coccodrillo sul suo tiro, che la devi in angolo, al sessantottesimo Lautaro si mangia, un gol già fatto, servito se non erro da Aslani o Barella, non ricordo, si fa rimontare da Toloi, davvero un Lautaro che ce l'ha messa tutta, ha messo il cuore in campo il capitano però, purtroppo non era in condizione, si vedeva. Un Lautaro un po' sulle gambe, un po' stanco, un po' pesante, sicuramente è stato l'ultimo Lautaro ad arrivare dalle vacanze, ricordiamolo, ha fatto la preparazione sia anche infortunato, in settimana è stato 5 giorni senza allenarsi, 4 giorni senza allenarsi, non ricordo esattamente, l'ha messo, l'ha schierato in campo titolare in zaghi perché voleva farlo segnare, purtroppo non è riuscito, al settantasettesimo altra ripartenza Inter con Di Marco, che mette in mezzo Turam per Aslani che si fa stoppare ancora una volta, settantanomesimo, entrano anche Taremi e Frattesi per Turam e Barella, dopo che Taremi e Frattesi hanno rimasti oltre 5 minuti lì a bordo campo, aspettare che la palla uscisse, per 5 minuti la palla non è voluta uscire, peccato, comunque all'ottantaduesimo viene annullato un gol a Di Marco, chiaramente giusto per fuorigioco e all'ottantatresimo finalmente un po' di riposo per Lautaro Martinez entra Arnautovic al suo posto, un Arnautovic che entra col piglio giusto, con la voglia giusta e mi piacciono i giocatori quando entrano così, Taremi scippa un pallone sulla tre quarti nostra, va per Arnautovic, Arnautovic davanti al portiere cosa fa invece di tirare, di poter segnare lui, cerca l'assist per Taremi che purtroppo si fa rimontare, e viene anticipato in angolo al novantesimo Aslani, subito dopo quell'angolo, mette in mezzo un pallone di sinistro bellissimo per Arnautovic che colpisce di coscia, anche un po' sfortunato, alto Arnautovic che è entrato bene e che secondo me meritava o l'assist o il gol perché davvero è un ragazzo dal cuore d'oro, mi dispiace, obiettivamente è un giocatore che ha avuto tanti, forse troppi infortuni, però è un ragazzo che fa tanto gruppo e si vede in queste cose, tanti applausi dalla panchina per queste scelte, di servire il compagno piuttosto che andare a segnare, lui il potenziale 5-0 che non è mai arrivato, allo novantaduesimo altra chiusura di Ecerbi, ottima su Retechi, e finisce la partita sul 4-0. Ragazzi c'è poco da dire, un'Inter meravigliosa, non ce n'è per nessuno, quando giochiamo così abbiamo dimostrato ancora una volta chi è la squadra, la campione d'Italia, noi siamo i campioni d'Italia, è peccato e mi mangio ancora le mani per quei due punti PSG alla prima giornata, davvero lì saremmo stati a 9 punti, a punteggio pieno, peccato, peccato, spero che questi due punti non incidano poi sul finale del campionato, perché davvero è un peccato regalare quel pareggio così al 95esimo per un errore stupido del singolo, dopo un altro errore stupido di Sommer che aveva regalato il momentaneo 1-0, insomma, ragazzi potevamo essere a punteggio pieno, non lo siamo, ma un Inter che finalmente sta trovando la forma, ma stiamo girando adesso bene, siamo tutti molto in palla, molto aggressivi, un Inter sempre solida, cattiva che non concede il gol agli avversari anche sul 4-0, ed è questo che voglio vedere, vedere sempre questa mentalità, con questa mentalità si va avanti e si vincono i trofei, i campionati, le partite, insomma, speriamo di continuare così e di non avere altri infortuni che ne abbiamo avuti già abbastanza. Buonasera a tutti amici interisti, forza Inter sempre, ti ha tutte le cucchiai che stasera ci hanno sperato fino all'ultimo, ma non è stata la loro serata. Di nuovo, ci vediamo domani, mi raccomando, per il Super Pangellone.